Il Signore si è accolto, e con il Signore, dal Vangelo secondo te, gloria a te, Signore. C'è una version per il Signore,��, francesca, l'indicato dè alcundro, orate con il nostro padre, Giuseppe con il Governo si mutava, che era un signore della Signore, Arnonciano una signore del governo, di patt вас ricordato a venerita Norm kimontan, Grazie a tutti. Grazie a tutti.